Ok conferenza stampa alla vigilia di Roma Inter di Spalletti due domande fondamentali una sulle dichiarazioni sul tweet del padre di Lautaro Martinez per chi se le fosse perse il padre di Lautaro Martinez scrisse diretto all'allenatore dell'Inter Cagon quindi pauroso se vogliamo usare un termine più edulcorato per definire la scelta o non scelta di non schierare Lautaro in una partita delicata e sotto di un gol come Tottenham Inter allora Spalletti ha fatto presente che nelle grandi squadre si cerca sempre di limitare anzi di azzerare annullare queste situazioni imbarazzanti e in questo caso devo dargli ragione mogli fidanzate cognate suocere amanti padri figli devono tenere la bocca cucita ok io purtroppo è stata un tweet del padre quindi perché dare la responsabilità a Lautaro anche se lui avrebbe potuto smentire oppure distaccarsi dalle parole del padre come fece Verratti con il suo procuratore però devo dargli ragione perché il calciatore interessato può scrivere quello che vuole nel senso può pure mandarlo a quel paese in diretta nazionale ma chi non è il diretto interessato come i familiari mogli figli ripeto amanti devono tacere quindi in questo caso Spalletti ha letteralmente straragione e fa bene ad ammettere a dichiarare che sono dichiarazioni che danneggiano lato a lo stesso ok oltretutto sappiamo come è fatto Spalletti che vuole che fa sempre il contrario di quello che gli si chiede quindi se una persona gli cade sulle scatole e il padre di questa persona perché il padre di questa persona vuole imporre un suo pensiero state sicuri l'abbiamo visto Spalletti fa l'esatto opposto ok quindi diciamo che il padre di Lautaro se lanciato la zappa sui piedi però però Spalletti ha ragione ragazzi pessimo di pessimo gusto il tweet tutti pensavamo in questa maniera ma noi tifosi visto che l'Inter è nostra possiamo insultarlo non il padre di un tesserato pagato dall'Inter ok punto secondo sulla domanda cosa ne pensi delle dichiarazioni di Perisic che gli piacerebbe andare le è sempre piaciuto il sogno ad approdare l'Inghilterra e il suo pupillo l'ha giustificato ha detto che sono dichiarazioni normali e un calcio in evoluzione quindi il suo pupillo non sbaglia mai il suo pupillo tutto ciò che fa è tutto oro che cola per gli occhi di per gli occhi di Spalletti quindi sulla seconda avrei preferito glissasse o dicesse non ho sentito le dichiarazioni bisogna vedere la traduzione bisogna vedere cosa è stato detto e cosa viene riportato dai giornalisti perché non si può giustificare Perisic soprattutto dopo un'annata un'annata in mezza così penosa vi ricordo solo che a Lazio Inter si è fatto l'autogol Lazio Inter che ci ha fatto approdare in Champions League quindi era meglio cercare di sviare come lui sa ben fare perché quando gli si fanno le domande e che lui non piacciono cerca e anzi riesce sempre a sviare con argomenti da pazzoide mentre in questo caso Perisic è stato giustificato quindi ti accordissimo sul pensiero di Spalletti sul padre di Latoro Martinez che ha fatto un'emerita figura di cacca è stato un qualcosa di vergognoso infatti il tweet è stato prontamente rimosso dal padre stesso ma non d'accordo nel giustificare Perisic oppure spero che lo giustifichi ma si leghi al dito queste dichiarazioni non facendolo giocare e facendoli fare qualche panchina magari riusciamo a far esplodere Cheta Baldè pollice verso iscrizione attivate la campanella fatemi sapere cosa ne pensate ok ci sentiamo domani per la partita forza ragazzi avanti Inter avanti Curva Nord ciao 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 ciao